Sull'albero le foglie sono tutte ugualmente verdi, belle, vive, e così dovrebbe essere anche l'albero della vita. Ogni foglia, che è una persona, dovrebbe essere bella, viva, verde, felice. È questo che non si capisce come mai qualcuno, oltre questa realtà, il creatore, abbia voluto foglie secche, brutte, foglie povere, foglie... ma la vita è una sola. Tutti dovremmo avere la possibilità di viverla bene per dire grazie di averla fatta vivere anche a noi. Ovviamente non è un giudizio che uno vuol dare al creatore, ma chiedersi come mai tanti disgraziati devono sopravvivere, infelici, trattormenti, dispiaceri, dolori, lutti. E alla fine chiedersi, Dio il creatore è colui che è potuto, e perché permette così tanta sofferenza e dolore a dei poveri uomini. Qualcun altro forcirà e poi dopo si guadagna il paradiso. Ma il paradiso è questo qua, della vita materiale, ed è anche l'unica che abbiamo di vita. L'albero della vita dovrebbe rendere felici, sereni, contenti, appagati ogni uomo, ogni foglia, ogni essere umano.